un po' gli ha fatto questo qua non devo fare le trambote invece c'è la tua gazzola le tua picchi, i tuoi cazzai e per niente io non lo so questa è la sequestra ma quello non andava a fare anche per rispetto dell'altro a me non mi serve percussore io veramente non posso fare il tempo e lo risolvivo là le cose mi affanno e lo firmavo dovrebbero implementare almeno volta per volta sta in capa ok vi rispondo vi ripetello a rompere il cazzo vipa 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 stamattina non sono provvedi se non è andato a palla a scuola vipa 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 vipa